segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te più precisamente circa un elettore su tre o poco più lombardia e in lazio il popolo ha votato e tutto è perdonato perdonato il presidente della regione lombardia fontana per il disastro della pandemia le mancate zone rosse nel febbraio del 2020 le rsa invasi dal virus e cariche di morti perdonati del mastro e donzelli per aver divulgato documenti non divulgabili relativi a cospito il 41 bis a fini di battaglia politica perdonato il sottosegretario durigon che continua bel bello ad andare in giro senza dare risposte per una casa presa con il maxi sconto e pagata ancora non è chiaro bene a chi e come stasera torneremo a occuparcene con la nostra inchiesta perdonato silvio berlusconi non solo per aver abbracciato putin e scaricato brutalmente zelensky l'aggredito alla faccia della sua coalizione appena quattro giorni fa e non abbiamo sentito una sola parola di biasimo da parte dei suoi colleghi del governo della maggioranza ma perdonato in tribunale assolto per aver pagato dei testimoni perché non parlassero al processo sul rubi assolto perché il fatto non sussiste perché quelle ragazze pagate non dovevano essere sentite come testimoni bensì come indagate quindi con altre garanzie proprio per aver ricevuto i soldi dal cavaliere vizio di forma che poi nei processi anche un vizio di sostanza ma i soldi le ragazze di presero le presero e berlusconi pagò il loro silenzio verità storica e verità giudiziaria responsabilità politica e responsabilità penale certamente non sempre coincidono grazie a tutti